ciao oggi ti parlerò delle pro mission x il prodotto di punta della casa tetesca in here di questo prodotto ho già realizzato un unboxing e quindi se vuoi vedere o scuriosare per capire tutto quello che trovi nel packaging ti lascerò il link da qualche parte qui nel video prima di incominciare ti invito a iscriverti al canale ed azionare la campanella e di lasciare un commento positivo o negativo al video iniziamo con un po di dati tecnici per quanto riguarda queste belle cuffiette le pro mission x hanno un sistema a 4 vie con 10 driver per lato un raggio di trasmissione che va dai 10 ai 20 mila hertz una pressione sonora in uscita a 120 db impedenza 10 ohm lunghezza del cavo 140 centimetri dei filtri anticerume dei filtri anticerume che permettono una facile pulizia sono sostituibili e impediscono allo sporco di entrare nell'auricolare esteticamente nulla da dire questi auricolari sono bellissimi c'è questo mix tra resina acrilica e legno che conferisce una particolarità all'auricolare utilizzando il legno ogni auricolare non sarà mai uguale all'altro il tutto ricoperto da questo rivestimento lucido bellissimo ovviamente come al solito questi sono tutti i dati tecnici tecnicismi la gomma la plastica i hertz ma veniamo alla mia personalissima esperienza d'uso una cosa interessantissima è stata fatta per realizzare questo diciamo calco universale hanno sovrapposto le specifiche le dimensioni la forma di di centinaia di auricolari no generici e anche professionali cascato subito da questa sovrapposizione è uscito questo modello universale che si adatta veramente facilmente all'orecchio mentre in genere mi trovo sempre con gli auricolari con gli altri un'altra tipologia di auricolari devo sempre stare a fare aspetta qual è il verso qual è il verso uno potrebbe dire perché tu sei abituato a fare sta cosa ho fatto provare pure persone che non sono diciamo del mestiere diciamo così subito hanno trovato il verso io amo fare recensione ai prodotti quando posso testarli sul campo e soprattutto quando posso utilizzarli per tanto tempo perché è lì che si vede il cavallo buono a lungo a lungo termine questa cosa va in contraddizione con le logiche di youtube dove devi essere sempre il primo a fare a far uscire il video e ti mette anche un po contro diciamo ai brand con cui collabori perché se ti danno un prodotto da testare non so perché vogliono una recensione rapidamente giustamente io ho questa questa mia politica e la porterò avanti quindi andando totalmente controcorrente ho tenuto come questi auricolari per ben sei mesi facendo incazzare da morire i tipi del brand no sto scherzando dai ciao nora ciao claus però così facendo ho avuto l'opportunità di testare sul campo e su vari palchi dal palco palchetto palchettino palco gigante fighissimo club oppure anche durante sessioni di registrazione durante le prove durante lo studio con metronomo ho avuto modo di provare a fondo questi auricolari per quanto riguarda l'isolamento acustico passivo devo dire che secondo me sono i migliori che ho provato finora ti proteggono senza però isolarti totalmente nel senso che riuscivo a sentire le frequenze fondamentali di ogni strumento riuscivo a capire pure meglio delle cose del mio suono del mio modo di suonare non che siano miracolosi non esageriamo però è una cosa che comunque ti aiuta il cavo non so se si vede il cavo è abbastanza comodo e morbido è twistato quindi come dire vabbè non lo so come si traduce scrivetemelo sotto vabbè io sogno un cavo che esce cioè una cuffia che esce di base dalla fabbrica con un cavo di tre metri però sarebbe un po complicato per quanto riguarda il packaging quanto riguarda invece il suono che è la cosa più importante ho trovato il suono di queste cuffie molto professionale e funzionale al professionista che cosa voglio dire con questo gli ascolti sono molto neutri senza nessun colore particolare e su delle frequenze specifiche questo per me è un punto di forza nel senso non avrete non avrete dei bassi spinti potenti e non avrete nemmeno quelle frequenze ciccione ingombrante che danno fastidio sui medio alti questo non significa che avrete degli ascolti in modalità citofono stiamo parlando ovviamente di un prodotto studiato come se fosse un piatto d'alta cucina dove tutti gli ingredienti devono giocare un ruolo importante senza però sovrastare l'altro infatti sentirete quelle nuanze sulle frequenze basse quel tanto che basta da non farle risultare sterile però sempre senza esagerare con una risposta sempre veloce e precisissima perfette come un bisturi ovviamente a questa affermazione ci sarà chi dirà ma io voglio le cuffie che spingono quelle belle potenti bassose non c'entra niente questo discorso queste cuffie sono progettate per chi sul palco riceve più sorgenti più strumenti contemporaneamente e nessuna deve sovrastare l'altra o deve essere poco distinguibile come vi dicevo io ho avuto modo di provarle in più occasioni le ho provate con diciamo la situazione classica su un palco con la band con tutti gli strumenti in cuffia ma anche in situazioni tra virgolette un po più complesse dove c'era la band al completo le sequenze e anche il metronomo prima dovevo togliere qualcosa perché altrimenti sovraccaricando di frequenze a un certo punto non capivo più niente invece con queste cuffie che hanno come dicevo un dettaglio incredibile ho avuto la possibilità anche di tenere tutto più basso e mantenendo comunque tutti gli strumenti e sicuramente sono delle caratteristiche che si trovano con dei prodotti di questa fascia il prezzo non è basso di sicuro non è tra i più alti però stiamo parlando di un prodotto professionale e di un prodotto che preserva una cosa che è insostituibile come il nostro udito una cosa che non mi è piaciuta che non è relativa proprio alla cuffia in sé è il case che ti danno in dotazione che è veramente enorme la versione precedente che ho provato avevo un case molto simile bello il plasticoso bel plastica dura un po più piccolino della dimensione un po più contenute con maschettone ti attaccavi al pantalone allo zaino non si poteva fare invece adesso c'è sto valigione sembra un case da microfono che va a sbattere veramente pesante non è la cosa più pratica di questo mondo comunque questa è la mia esperienza in merito sono molto soddisfatto sinceramente di questo prodotto mi sono piaciute veramente tantissimo se avete domande in merito scrivetele qua sotto mettete un bel like ci vediamo alla prossima recensione ciao 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 ciao